Egregio Dottor Jones Forse No, meglio di no Progetto per l'introduzione della pesca al salmone nello Yemen Questa è una presa in giro Ci sono due milioni di pescatori nel Regno Unido Due milioni? Tutti lì ad agitare le gambe da pesca? Splendido È appena diventato un progetto prioritario È palesemente ridicolo Dovremmo catturare decimila salmone Portarli vivi nello Yemen Per consentire al suo sceico di tirarli fuori dall'acqua Per puro divertimento Fino all'arrivo della stagione secca Quando moriranno... Tutti Trovo l'uscita da solo Lei mi crede pazzo? Sarebbe un miracolo se dovesse accadere È come se fossi rimasto bloccato per anni Sono geneticamente programmato per vivere una vita noiosa e banale Se farà questa cosa senza metterci il cuore Credo che non arriveremo a niente Devi avere fede, dottor Alfred Non trovi che stia andando molto bene? È un'esperienza straordinaria Non stavo parlando del progetto No, nemmeno io credo Fede, dottor Alfred Sì, d'accordo Allora, fede Comincio a credere che questa folla impresa potrebbe anche riuscire Guarda! Oh, buon compleanno Patricia! Oh sì, ce ne fossero come voi i tre ministri